Va bene, ritorniamo al nostro bellissimo esercizio. Abbiamo già completato una buona parte del modello, quindi abbiamo preso la logica applicativa e l'abbiamo portata in una nuova classe numero model con essenzialmente due metodi. Quello per iniziare una nuova partita è quello per fare un tentativo. Magari diamo una commentata a questo metodo, sempre con javadoc, metodo per effettuare un tentativo. Il parametro t è il tentativo e ritorna, abbiamo detto per convenzione, 1 se il tentativo è troppo alto, meno 1 se è troppo basso, 0 se l'utente ha indovinato. Ok, dicevo buona parte è fatta, mancano alcune cose, nel senso che il controller deve essere sempre in grado in ogni momento di chiedere al modello lo stato attuale della partita ad esempio. Ok, quindi mancano alcuni in particolare get, metodi get che il controller potrà usare per sapere come sta andando la partita. Ad esempio mi aspetto sicuramente una get pubblica di in gioco, giusto? affinché il modello possa sapere se la partita è ancora in corso oppure no. Perché altrimenti dovrà stampare ad esempio il messaggio la partita è finita. Quindi sicuramente mi farò generare qua in fondo da eclipse un getter per in gioco. Se le variabili sono booleane, eclipse al posto di chiamarlo get gioco la chiama is in gioco, che suona un po' meglio, ma è sempre un get. Ok, il set mi serve? No, assolutamente no, perché è il modello che deve dire quando la partita è in corso o no, non il controllore, altrimenti qualche controllore malevolo potrebbe permettere all'utente di decidere lui se la partita è in corso oppure no, ok? Mi servono altri getter e setter? Beh, su segreto tanto meno, cioè non posso permettere al controller di sapere il segreto, oppure sì, dipende. Perché in effetti concettualmente se pensiamo a un controller malevolo potrebbe usare un get segreto per dire all'utente dammi 100 bitcoin e io ti dico qual è il segreto. Però in effetti noi vorremmo anche ad esempio alla fine della partita stampare qual era il segreto, ok? Quindi qui dobbiamo un po' fidarci. Il get segreto probabilmente ci servirà se vogliamo stampare alla fine qual era. Poi set segreto no, perché non è il controller che decide qual è il segreto. Tentativi fatti? Ma cosa, get o set? Ovviamente get. Per stampare a che tentativo sono arrivato. Tmax direi di no, perché è una variabile decisa dal modello e nemmeno nmax. Ok, mi sembra sia tutto. Generate. E lui mi genera i get relativi. Ok, io direi che il modello, bene o male, ok, non ci sono errori, mi sembra abbastanza completo. Mi permette di iniziare una partita, mi permette di fare un tentativo e mi dice se sono in gioco oppure no. Altre cose per il momento non mi vengono in mente. E vedremo dopo, faremo una prova per vedere se ho fatto bene o ho sbagliato qualcosa. Se riesco ad utilizzare questo modello a partire da una classe di test Java. Ok, ma lo vediamo dopo. Torniamo al controller. Adesso qui c'è un po' di pulizia da fare, perché molta roba l'abbiamo messa di là. Ovviamente gli handler rimangono, sono i metodi associati a, ad esempio, il click del bottone. Handle nuova partita, ad esempio. Ovviamente qui in gioco mi dà errore, perché in gioco ora è nel modello, quindi lo cancello. Anche questo commento lo cancello. Ovviamente la gestione dell'interfaccia rimane. Questo è veramente il compito del controller. Qui mi dà errore, perché ovviamente tmax non è più qui, ma è nel modello. E qui abbiamo già fatto il primo errore, perché in effetti il get di tmax ci serviva. Ok, quindi torniamo sul modello e aggiungiamo il get di tmax, semplicemente perché vogliamo stamparlo dal controller. E quindi qui non sarà più this.tmax, ma andrò a chiederglielo al modello, model.gettmax. Ok, è la prima volta che usiamo il modello dal controllore. In questo caso semplicemente per farci dare un numero. Oltre alla gestione dell'interfaccia, questa è una nuova partita, quindi la partita la dobbiamo iniziare. Ma non la iniziamo più noi, ma la facciamo iniziare al model. Model.newgame. Ok, dico il modello, ok, è iniziata una nuova partita. Va bene. Dopodiché andiamo a prenderci un attimo il file interfaccia grafica. Dunque, quell'handler nuova partita era associato a quel bottone. E poi c'era un altro handler associato a questo bottone prova. Che si chiamava handler prova tentativo, cioè fai un tentativo. Andiamo a vederlo. Eccolo qua. E vediamo cosa dobbiamo togliere e cosa dobbiamo delegare al modello. Allora, leggere il valore ovviamente è una cosa che dobbiamo fare noi, perché è un valore inserito nell'interfaccia grafica. Quindi, leggo con una getText dal mio nodo textfield chiamato txt tentativo il numero inserito. Poi, c'è un primo controllo di cui abbiamo già parlato prima, che è un controllo di tipo. Se è valido il tipo di dato, ok? Questo, appunto, come ho detto prima, tipicamente rimane qua, perché il modello richiede i parametri di tipo giusto, ovviamente. Vuole un intero per fare il tentativo. Allora, questa roba qui rimane qui, cioè se provo a fare una parse int di quello che ha scritto l'utente, se va tutto bene vuol dire che era un numero e saltiamo qua. Se qualcosa va male, l'utente magari ha scritto una stringa, viene generata un'eccezione, questo catch la cattura, stampo un messaggio sull'area di testo, non è un numero valido, e ritorno. Finisco il metodo, fine, ok? Bene. Adesso potrei fare anche qui, visto che mi son definito nel mio modello un metodo pubblico che mi dica se il tentativo è valido oppure no, per sicurezza potrei anche controllare il range qua, nessuno me lo vieta. Quindi potrei dire if tentativo, no, non tentativo valido, if model, punto, tentativo valido, tentativo, l'ho chiamato, potrei stampare, potrei stampare, ad esempio range non valido, e poi ritornare, ok? Questa è una mia scelta, ok? Ho scelto di controllarlo in due posti diversi, per sicurezza, non è la scelta per forza più giusta, ok? Potevo basarmi semplicemente sulle eccezioni che avevo messo di qua, fare il catch di queste eccezioni e gestire gli errori così. Dipende, non c'è una scelta giusta o sbagliata. Quello che conta è che però questa append text la faccio qui e non nel model, ok? Perché qui mi sto occupando dell'interfaccia grafica. Adesso ho il tentativo che è sicuramente un numero e sicuramente è nel range giusto. Che devo fare? Chiederò al modello, no, se questo tentativo è corretto oppure no, ok? Allora abbiamo deciso di ritornare tre valori interi, quindi avrò una variabile di ritorno int, chiamiamola risultato, e chiedo, caro modello, il mio tentativo chiamato tentativo, com'è? Adesso qui ci sarà la serie di if che controllerà il valore di ritorno. Quindi se risultato è uguale o uguale a zero, vuol dire che ho indovinato. Vuol dire che concettualmente sono in questa if qua che avevo prima, perché il tentativo è uguale a segreto. Quindi posso copiarmi l'append text. Questa pen text, qui prima i tentativi fatti ce li aveva qua. Adesso devo chiedergli al model. Tentativi fatti, ok? Questa roba qui rimane, disattivo i vari bottoni, le varie parti dell'interfaccia che entrano in gioco quando una partita finisce o inizia. Poi qui facevo dis.ingioco uguale false. A questo punto potrei voler dire, ok, diciamolo al modello. Magari il modello ha un metodo fine partita. Model.endgame. In realtà non l'abbiamo messo questo metodo, semplicemente perché già nel metodo tentativo, che io ho richiamato qua, già in questo metodo, se ho indovinato, prima di ritornare zero, metto in gioco uguale a falso, ok? E' concettualmente più giusto farlo qui, perché è un'operazione relativa veramente alla logica del gioco. Quindi meglio farlo qui che nel controller. Quindi in sostanza questa endgame non ci serve perché il modello lo sa già, l'ha già fatto. E poi avremo le altre else. Else risultato minore di zero. Andiamo a vedere. Eccola qua, questa qua. tentativo troppo basso. Me la copio e la metto qua. Perché mi dà errore? Eh, è il sif, è vero. Grazie. È il sif, ovviamente. Altrimenti, l'ultimo caso possibile è che sia maggiore. E quindi vado a ricopiarmi questa append text. Ok. Quindi tutta questa roba qua la posso, via, cancellare. Ok. Manca ancora una cosa oltre all'ultima riga che vediamo dopo. Anzi, questa facciamo la prima. Ovviamente fatto un tentativo, aggiorno l'interfaccia. Questo c'era già, ma devo cambiare un po' perché queste variabili non sono più qui, sono di là. Quindi model.gettmax no, non tentativi falliti, ma tmax ok, meno model.gettentativifatti. E rimane così. Manca ancora una cosa. Ho fatto un tentativo, devo anche controllare se ho visto se era giusto o sbagliato e al fondo devo vedere se li ho esauriti. Ok. Se ho finito le mie le mie carte. E beh, questo lo posso fare andando a chiedere al modello il suo stato, cioè lo stato della variabile in gioco. e lui me lo sa dire. Quindi se not model. is in gioco, se per caso capita questo, vuol dire che qui da qualche parte e in particolare o qui perché l'utente ha finito i tentativi oppure qui perché l'utente ha indovinato, il modello ha decretato la fine della partita mettendo in gioco a false io gli chiedo tramite questo metodo il valore di di in gioco e se per caso è false vuol dire che la partita è finita. Ok. Ovviamente se questo può capitare in due casi può capitare se ho indovinato ok e in questo caso c'è già un messaggio diciamo che possiamo considerare terminale nel senso c'è scritto complimenti e indovinato fine ma può anche capitare se ho esaurito i tentativi ok e per questo caso qui qui non abbiamo ancora nessuna stampa giusto? allora qui all'interno di questa if mi chiedo nuovamente se per caso risultato è diverso da zero cioè ok la partita è finita ma è finita perché ho indovinato o perché ho finito i tentativi? se è perché ho finito i tentativi quindi il risultato l'ultimo risultato era diverso da zero allora potrò stampare il messaggio di errore txt messaggi punto append text hai perso e magari possiamo anche dirgli appunto qual era il numero segreto ad esempio string punto format mettiamolo slash n slash n uffa se descende il numero segreto era due punti per cento di virgola lo chiedo al modello ok domande ovviamente potevano esserci anche soluzioni alternative dipende uno come pensa i metodi e in questo caso abbiamo pensato un metodo che esegue un singolo tentativo e mi ritorni uno meno uno zero e poi abbiamo pensato alla variabile in game che ci dice tutte le volte se siamo ancora in gioco oppure no qui sotto abbiamo la set model di prima e tutto dovrebbe funzionare speriamo proviamolo da qualche parte me l'ha aperto forse no c'è già un errore benissimo eh questo è normale facendo le cose allora vediamo che una null pointer nel main mi dice che il controller è nullo fatemi vedere solo per sicurezza forse perché bisogna fare un cast un vero controller ovviamente no allora qualcuno ha qualche idea allora ora faccio una cosa che voi non dovete mai fare ma vado a vedere no potete farlo se volete ovviamente l'esercizio dell'anno scorso github slash tdp 2018 prendiamo la classe main ah certo ovviamente no a parte gli scherzi è impossibile ricordarsi tutto a memoria ma anche per voi e infatti è questo un po' il nostro il nostro obiettivo anche insegnarvi a sapere dove trovare le cose ora vabbè ho guardato una soluzione precedente ma utilizzare anche strumenti come stack over flow eccetera e questo è anche il motivo per cui all'esame voi potrete fare tutto quello che volete cioè andare su internet guardare soluzioni dell'anno scorso eccetera ok non c'è niente di male ad andare a riprendere non è che voglio giustificarmi allora quali erano le differenze border pain root loader lo del punto load ah eccolo qua bisogna questa roba tra parentesi va in realtà nella definizione del fxml loader ok e il punto load va senza parentesi root dopo prima di chiedere il controller va creata la scena quindi sposto su questa roba qui ok a quel punto posso creare il nuovo modello ok posso farmi dare il controller qui se lo fa dare al volo ma va bene lo stesso con get controller e poi faccio set model ok vediamo commento un attimo questo vecchio e vediamo se funziona sì ok quindi c'era un piccolo problema di sintassi questo lo cancello a differenza del codice che ci mette in automatico eclipse creo un nuovo fxml loader passandogli quello che c'era in realtà nella parentesi del load poi utilizzo il load senza niente tra parentesi prima creo la scena e poi mi faccio dare il controller ok queste erano le differenze ma comunque ora abbiamo visto che funziona questo è il metodo si farà sempre così dovrete sempre cambiare il codice di eclipse in questo modo ok andiamo a prendere la mia finestra che è sparita eccola qua vediamo se riusciamo a no non funziona lo zoom vabbè ma si vede c'è già un problema questa questo text field mi aspetto che sia disabilitato all'inizio che venga abilitato solamente quando clicco nuova partita ma poi lo sistemiamo clicchiamo nuova anzi mi aspetto che sia sempre disabilitato perché è un text field che non posso modificare proviamo un tentativo sì qui c'è il metodo che ti permette di indovinarlo con una certa sicurezza provando sempre a metà dell'intervallo che rimane se 50 è troppo alto devo provare tra 25 ad esempio grazie perché sono un po' fuso troppo alto quindi riduco ancora proviamo a metà di 25 12 o 13 troppo alto ancora proviamo 6 troppo alto ancora proviamo 3 troppo basso proviamo 5 vedete ho messo T per sbaglio ma va giusto bene perché abbiamo fatto tutto correttamente mi ha detto non è un numero valido va bene allora ora ti metto 5 ho indovinato ok in 6 tentativi sembra funzionare incredibile mi dice che rimasti sono 2 e se clicco di nuovo nuova in teoria dovrebbe resettare il tutto ok si non resetta ad esempio l'area di testo questo è un problema vedete che ha lasciato un mio tentativo precedente ma va benissimo io vado a prendermi il mio programma e ovviamente nel controller nella nuova partita oltre a fare il clear di txt messaggi faccio il clear di txt tentativo punto clear ok il main il main certamente si penso che il problema di prima fosse perché avevo creato la scena dopo aver chiesto il controller in realtà bisogna prima creare la scena non ne sono sicuro ma penso che l'errore sia quello domande allora se vi ricordate all'inizio ritorniamo un attimo a github io ho fatto un nuovo branch ok che si chiamava refactoring mvc quindi questa soluzione qui sta in questo branch al momento solo sul mio computer perché non ho mai fatto né commit né push allora proviamo a fare commit e push quindi dal menu team commit commit non riabilitiamo la nuova partita quando perdiamo non riabilitiamo perdendo non si riesce a prendere sì allora allora prima di fare commit controlliamo ancora questo problema lui dice che quando una partita finisce giusto quando perdiamo ok non si può più fare nuova partita vediamo se è vero allora nuova metto sempre 4 hai perso è vero bravo c'è questo problema se si perde non riabilitiamo l'interfaccia ok e non possiamo più cliccare nuova questo è chiaramente un errore quindi prima di fare commit sistemiamo giustamente gli errori quindi quel caso lì si verifica qui giusto vedete che noi agiamo sull'interfaccia quando abbiamo vinto ma non facciamo niente quando abbiamo perso quindi semplicemente copio queste due righe di codice e le incollo anche tac qua questo è proprio uno dei vantaggi che si ha utilizzando lo vediamo dopo le properties di cui vi parlavo prima è un classico errore devo fare la stessa cosa in più punti diversi e lo faccio solo in un punto e mi dimentico dell'altro noi avremmo potuto collegare ad esempio al box alla disable del box direttamente la variabile in gioco a quel punto quando la variabile in gioco cambiava automaticamente il comportamento del box era automatico si abilitava disabilitava in automatico sulla base del valore della variabile questo è proprio il vantaggio delle properties ok proviamolo per sicurezza ma penso che non ci siano problemi nuova ok e posso rifare nuova bene ritorniamo al nostro git quindi vado su menu team commit attenzione come vedete forse abbiamo aggiunto un nuovo file e questo file ci viene presentato in questo menu ok mentre i file che c'erano già sono presentati nel menu di sotto ok se abbiamo fatto un nuovo file e vogliamo fare commit e push di quel file dobbiamo sempre ricordarci di aggiungerlo cioè selezionarlo e cliccare o la più o la doppia più che gli aggiunge tutti nel caso in cui ce ne siano più di uno ok vedete che l'ho portato nel menu sotto se io lo lascio sopra non faccio più faccio commit e push solo dei file vecchi che c'erano lì ma quello sopra non lo considera non lo aggiunge ok quindi quando create un nuovo file ricordarsi di aggiungerlo messaggio refactoring mvc va bene l'autore sono io in questo caso faccio commit push perché voglio che venga fatto anche non solo localmente ma anche su github commit push ok ti chiede in quale branch vuoi fare questo commit push lasciamo refactoring mvc che è quello che abbiamo creato apposta esatto non si può connettere perché non è permesso penso che immagino che il professore si sia dimenticato di darmi i permessi di scrittura anche sull'account sull'organizzazione tdp ok penso che sia questo il problema ma dopo me li faccio abilitare busso me li faccio abilitare e faccio commit push questo vi spiega però anche perché voi dovete fare fork perché se voi andate a chiedere al prof e se vi dai i permessi qui non ve li da quindi voi fate fork una volta che ve lo siete portati nel vostro namespace allora lì potete fare tutto quello che volete ok questo è il problema non mi ha dato i permessi e io non posso fare una modifica su un repository che non è mio su cui non ho i permessi in realtà dovrebbe essere mio ok ma dopo sistemo voglio solo farvi vedere magari lo prendiamo ah ok abbiamo ancora aperto l'esercizio dello scorso anno vedete che su github comparirà poi più di un branch quindi se voi cliccate sui branch potete vedere tutti i branch che c'erano nell'esercizio dell'anno scorso c'era un branch master c'era un branch refactoring mvc che è quello che abbiamo fatto oggi e addirittura c'era un branch per la soluzione in aula precedente così non c'è se poi clicco sopra io adesso qui vedo i file relativi a quel branch ok infatti c'è il model perché questo è il branch refactoring mvc e se voglio clonarmi un determinato branch supponiamo un esercizio di laboratorio no? la prima volta fate c'è un solo branch il master voi fate fork e clone di quel branch lì punto dopo una settimana metto la soluzione la metto in un altro branch voi volete clonarvi la soluzione perché perché volete farlo allora per clonarvi la soluzione ovviamente non fate clone subito dopo aver fatto il fork ovviamente non fate clone qui ma dovete andare nel branch ad esempio soluzione e fare il clone da lì altrimenti clonate sempre il progetto iniziale ci ho spiegato ok allora andiamo di aggiungere ancora se riusciamo due cosette dimmi ok sì questo si potrebbe fare eh esatto intercettando 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 vediamo di aprire sim builder chiudiamo tutto ovviamente ripeto memoria è impossibile ricordarsi tutto ma appunto probabilmente ci sarà un qualche tipo di evento che ci permette di andiamo a prendere ad esempio il stiamo parlando ovviamente del text field relativo al tentativo andiamo a vedere non tanto le sue properties ma il menu code vedete che ci sono un mucchio di noi abbiamo sempre ad esempio per i bottoni definiamo sempre un handler per on action on action sta a significare l'evento principale collegato a quel nodo se è un bottone l'evento principale mi sembra abbastanza ovvio che sia un click ok sul text field non saprei dire a memoria quale sia l'on action principale probabilmente quando ci si clicca sopra non lo so non sono sicuro bisognerebbe controllare però oltre all'on action ovviamente su ogni nodo si possono definire più eventi ad esempio qui c'è un metodo on key pressed cioè sta a significare ogni volta che sono sto scrivendo e premo un determinato tasto ok ovviamente definendo qui che ne so lo chiamiamo on key pressed nello stesso modo ad esempio poi mi rifaccio il view mi vedo lo skeleton che mi genera lui no sì lui però voleva un doppio comportamento sia il bottone prova quando clicchi sia la possibilità di fare un tentativo scrivendo dentro il text field e cliccando invio senza passare dal bottone è solo un altro modo di ecco come vedete qui abbiamo il metodo on key pressed e ovviamente poi nel parametro event ci sarà il modo di andare a recuperare quale tasto è stato premuto dovremmo andare a vedere se era l'invio e se era l'invio facciamo ok però mi dà lo spunto per dire che non c'è solo l'on action principale ma potenzialmente ad esempio potrei catturare l'evento quando il mouse passa sul bottone ma non lo clicca al netto che ci serve ok prego dicevo proviamo a inserire il concetto di property ok il concetto di property è quello che ci permette di fare questa parte del pattern la comunicazione diretta tra modello e vista perché se ci pensate bene nel nostro codice fino ad adesso queste frecce non le abbiamo ma abbiamo una comunicazione che va da controller a modello da modello a controller da controller a vista ad esempio faccio il tentativo input del tentativo lo comunico al modello il modello mi restituisce un risultato cioè sì il modello mi restituisce un risultato e io controller vado a modificare la vista append text ok con le property io riesco a passare direttamente dal modello al alla vista senza passare di qua ad esempio facciamolo su tentativi cioè sul sì sui tentativi già fatti andiamo a prendere il mio modello ok a questo punto non la definisco come un intero normale ma la definisco come una integer property ovviamente ci sono tanti tipi di proprietà per le stringhe per i numeri in questo caso è un numero tentativi fatti ok eh che print cosa scrivo private la devo importare ovviamente abbiamo letto che una property ha tre cose essenzialmente un get un set e un riferimento alla property stessa ma grazie al plugin java fx posso chiedere di generarmi in automatico questi get resetter se io vado source vedete che al posto di fare generargetresetter faccio generargetresetter java fx qui non mi vede la ah perché non ho salvato scusate salvo prima source non la vede forse perché non l'abbiamo creata vabbè li scrivo io in realtà dovrebbe farlo in automatico dovremmo avere forse perché c'è questa roba qua può essere ah sì perché c'era ancora il get vecchio e andava un po' in conflitto ok ho cancellato il get della variabile intera normale clicco ok ecco qua lui mi ha creato tre cose un get tentativi fatti un set che prende un intero e lo imposta e un altro speciale metodo che è tentativi fatti property che è un riferimento alla stessa property ok ovviamente qui adesso ci sono degli errori perché tentativi fatti non è più un intero e quindi non posso più fare tentativi fatti più più ok dovrò fare visto che è una property quindi un oggetto un punto set di dis punto tentativi fatti punto get più uno concettualmente fa la stessa cosa incrementa di uno quel contatore però lo faccio con questa sintassi qui perché è diventato un oggetto ok anche qui dis punto tentativi fatti punto get c'è ancora qualche errore eccolo qua non è più uguale a zero ma è punto set ok dopodiché non basta ancora perché questa non è più un numero semplice ma è un oggetto quindi dobbiamo fare una new da qualche parte altrimenti riceviamo una null pointer quindi ad esempio nel costruttore dovrò fare una new di integer property mi da errore perché integer property è una classe astratta ok se noi andiamo a vedere la documentazione non ce l'ho più aperta vabbè ve lo dico perché sennò perdiamo troppo tempo la integer property può assumere varie classi concrete ok ad esempio la più semplice è la simple integer property ah se andate a vedere sulla documentazione trovate tutti i vari tipi ok devo fare la new perché tentativi fatti è diventato un oggetto una property sì sì vado subito eccolo qua non posso fare più più e allora dico che il valore setto il valore di tentativi fatti ha quello che c'era prima punto get più uno ok adesso tutto dovrebbe continuare a funzionare se noi lanciamo il programma così com'è tutto funziona ok semplicemente ho trasformato questo numero in una cosa un po' più complessa però fa sempre la stessa cosa il bello viene adesso nel senso che io dal controllore posso fare una cosa in più nel senso questo tentativi fatti dove viene riportato il valore cioè se io faccio nuova ok questo tentativi rimasti viene riportato qui ok ora qui abbiamo invertito le cose qui riporta i tentativi rimasti mentre la variabile modella i tentativi fatti ok quindi bisognerebbe ancora fare un po' di lavoro noi facciamo il caso più semplice modifichiamo un attimo l'interfaccia diciamo che questi sono i tentativi fatti ok va bene è solo per semplicità perché se no bisognerebbe fare un passaggio in più e nel punto in cui eccolo qua al posto di stampare i tentativi rimasti stampo direttamente i tentativi fatti ok proviamolo è solo c'è un errore ho fatto forse aspettate ok vediamo se funziona no ah sì ok c'è ancora un 8 all'inizio ma poi si sistema vedete che al posto di decrementare ora aumenta ok niente di magico ho solo cambiato un attimo la logica e c'era un 8 iniziale perché ah eccolo qua al posto di impostarlo all'inizio a a tmax e lo ho imposto a 0 ok è chiaro cosa ho fatto adesso posso fare questa magia nel set model posso dire che txt come si chiama rimasti in realtà abbiamo visto non è più rimasti ma è fatti ma va bene lo stesso punto text property ok allora questa è la property che ci siamo definiti noi ma ovviamente ogni nodo ha le sue property un text field ha sempre una property text ok posso dire che la property text di questo nodo io la voglio collegare bind a che cosa alla mia property tentativi fatti model punto tentativi fatti property ok voglio che siano collegate queste due che ogni volta che cambi la mia tentativi fatti cambi anche il valore nel testo in automatico c'è ancora un errore questo perché la mia tentativi fatti property è una integer property mentre la text property sarà probabilmente una property di tipo stringa ok e quindi ovviamente va in conflitto ma possiamo tradurre un numero in stringa con la classe bindings bindings punto convert eccola qua ritorna ritorna una string expression che wrap una property ok se quello che ci mettiamo dentro è già una stringa rimane una stringa altrimenti viene convertita quindi bindings punto convert la mia property ovviamente devo importare bindings dovrebbe essere sì diafx bins ok non mi dà più errore il bello è che con questa semplice riga di codice io posso eliminare tutte le set text che coinvolgono txt rimasti cioè questa la commento per sicurezza ma la possiamo togliere sicuramente ce n'è un'altra qui la possiamo togliere e basta in questo caso ce ne sono due però potenzialmente potrebbero essercene di più e lui in automatico dovrebbe riportarmi il valore della variabile in quel text field proviamolo come vedete è già a zero io non gli ho detto di essere a zero anzi gliel'ho cancellata quella quella linea di codice è a zero perché la variabile tentativi fatti all'inizio è a zero il modello la imposta a zero nuova vedete che aumenta in automatico senza dover fare le set text e questo è un meccanismo molto potente perché permette di direttamente dal modello modificare la lista la vista e soprattutto mi permette di non fare queste set text che tipicamente poi dimentico ok ovviamente ci sono molti tipi di properties anche delle boolean properties per associarle ad esempio al disable di un bottone eccetera è chiaro sì arriviamo a questa finestra qui dove anche tu non è che c'è ancora il get vecchio l'hai tolto mi avete tolti vabbè al massimo a fine lezione venite proprio perché così è un po' scomodo sono collegato qui non riesco a venire ok ci sarà qualche problemino ma lo sistemiamo altre domande ok c'è un'ultima cosa che vorrei aggiungere che ci permette anche di ricollegarci un po' a quello che avete fatto ieri ok così cerchiamo anche un filo comune tra le lezioni ieri se non sbaglio oltre a aver visto git avete iniziato a vedere le liste giusto liste che dovreste già conoscere in teoria però facciamo un ripasso allora vado sul testo dell'esercizio di quest'anno ovviamente non dell'anno scorso il professore aveva messo lì non so se le avesse commentate in classe alcune possibili estensioni ok ad esempio in qualsiasi momento l'utente può decidere di abbandonare la partita semplicemente un reset oppure lo stato di avanzamento indicato con una progress bar giuro che non ho fatto niente penso sia saltata la corrente wow come mia prima lezione veramente top vediamo se riusciamo a va bene non c'è più lo schermo ma va bene lo stesso si vede no? allora dicevamo possibili estensioni di cui mi interessa principalmente l'ultima l'ultima dice il programma deve impedire che l'utente inserisca più di una volta lo stesso numero ok idee su come farlo vai ok quindi tu dici ok lui dice prendo una lista la definisco vuota ogni tentativo che faccio lo butto nella lista prima di fare il tentativo controllo che la lista non contenga già quel valore ogni volta che clicco nuova partita pulisco la lista siccome non posso utilizzare la posizione guarda la posizione della lista anziché avere un controllatore che è uguale perché? stai parlando dal controller o dal model? ok sì in realtà io comunque continuerei ad avere una variabile però quella è una scelta a gusto diciamo ok è una soluzione valida e proviamo a implementarla ovviamente non è la soluzione lo vedrete non è la soluzione più efficiente ok perché la ricerca in una lista è abbastanza dispendiosa qui ci sarebbe un modo molto più rapido molto più efficiente non so se avete già visto nei corsi precedenti le mappe ma ovviamente sì le rivedremo questo è proprio il caso tipico di una hash map ok in cui le mie chiavi sono i tentativi da 1 a 100 e i miei valori sono vero falso provato non provato e io ho un accesso diretto al tentativo e vedo vero o falso se è stato effettuato questo è più efficiente perché la ricerca nella hash map è più efficiente queste cose le vedrete andando avanti nel corso un po' di complessità della ricerca eccetera proviamo a farlo con la lista la soluzione più facile che il vostro compagno giustamente ha proposto sulla base anche di quello fatto ieri ovviamente questa lista dove sta nel modello ok quindi apro il mio modello e mi definisco una lista di che cosa? interi ovviamente se non ho una lista meglio utilizzare la classe integer ok che wrappa un intero chiamiamola tentativi lo posso usare? sì non l'ho usato da altre parti tentativi lista ovviamente è un java utile import utilizzo l'interfaccia perché poi il tipo di lista vera e propria l'andrò a mettere dopo la new sicuramente sicuramente la prima new la farò nel costruttore del modello quindi tentativi uguale new array list linked list fa lo stesso per il momento linked list di integer linked list la devo importare ok semplicemente mi sono creato una lista vuota all'inizio dopodiché ad ogni tentativo se per caso riesco a farlo quindi qui qui sono sicuro che il tentativo l'ho fatto perché ha superato i controlli il tentativo lo vado a mettere anche nella mia lista nella mia lista temporanea che mi diciamo raccoglie la storia dei tentativi dell'utente quindi dis.tentativi .add un intero che qui si chiama t ok ok qui è se sono riuscito a fare i tentativi ma adesso vogliamo aggiungere un controllo in più controlli che stanno prima di fare il tentativo vero e proprio quindi in un certo senso stanno qua ed ecco qua che ci viene utilissimo calza proprio a pennello il nostro metodo che abbiamo fatto prima tentativo valido ok almeno siamo sicuri che dobbiamo modificare solo una cosa lì dentro e da nessun'altra parte andiamo ad aggiungere nel mio metodo tentativo valido un altro controllo qui dobbiamo fare un po' di lavoro perché non ritorniamo subito falso cioè si se è fuori range ritorniamo subito falso perché è fuori range altrimenti non ritorniamo subito vero ma aggiungiamo un controllo in più è il controllo se quel tentativo l'abbiamo già fatto oppure no allora semplicemente if la mia lista tentativi punto contains se la mia lista contiene il tentativo vuol dire che è un tentativo che era già stato fatto ritorno falso altrimenti ritorno vero è chiaro il meccanismo manca ancora una cosa ovviamente alla fine della partita dobbiamo pulire la lista perché altrimenti rimane sporca delle partite precedenti quindi da qualche parte qui qui ad esempio la partita è finita perché ha usato i tentativi potrei dire dis punto tentativi la ricreo new linked list di integer ok ho scelto di ricrearla potrei anche fare penso punto clear e poi lo devo fare anche qui se ho indovinato già farlo in due posti mi puzza un po' perché poi me ne dimentico allora c'è un posto concettualmente migliore per farlo tutte le volte che inizio una nuova partita ok qui almeno lo faccio una volta sola ed evito di dimenticare dei pezzi proviamolo e poi abbiamo finito nuova 2 troppo basso riprovo il 2 vabbè il messaggio d'errore è sbagliato ora non è più range non valido dovremmo modificare il messaggio d'errore scrivendo tentativo non valido però funziona se cambio numero funziona finisco la partita no è range non valido ovviamente perché sto ripetendo lo stesso numero quindi è corretto che mi dica quello quindi ogni volta ora devo cambiare il numero è 2 l'ho già messo ok se faccio nuova riprovo col 2 controlliamo solo di aver pulito la lista troppo basso quindi è andato l'ha preso come tentativo ok allora ora non abbiamo più più tempo ma probabilmente la volta prossima nei primi minuti della lezione vedremo come utilizzare questo modello soprattutto per controllare se abbiamo fatto tutto bene da ad esempio una classe di test cioè io dentro al mio package model mi creo una nuova classe che abbia magari un main ok che si chiami test model e all'interno di questo main dovrei riuscire a crearmi il modello numero model e a giocare direttamente da questa classe ok quindi fare model.new partita fare un ciclo provare dei tentativi se riesco a farlo vuol dire che ho diviso bene il modello dall'interfaccia grafica ok va bene grazie dell'attenzione buon appetito grazie 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 grazie